Musica Amici sportivi di Futura Channel.it ben ritrovati come ogni venerdì a Futura Sport il nostro approfondimento sportivo settimanale anche questa settimana news, risultati, classifiche e intervista andiamo a vedere di cosa parleremo in questa puntata e partiamo come sempre dal calcio il Bagheria Città delle Ville, il campionato di promozione che resterà fermo almeno fino all'8 di aprile il Bagheria riprenderà contro la Pro Tonnarella squadra in piena lotta per la salvezza che occupa il quarto ultimo posto mentre i bagheresi viaggiano a quota 44 punti al quarto posto in graduatore abbiamo sentito mister Mineo che ci ha fatto il punto non solo sul campionato ma anche sul settore giovanile, ascoltate Parliamo dei giovani, la squadra appunto è una squadra abbastanza giovane, si può trovare qualche cosa anche nella squadra Uniones allenata da Sparacino e che si è salvata abbastanza bene quest'anno? Negli allievi di Sparacino si può trovare, il lavoro che facciamo con Sparacino e l'opiporo che allena Uniones è ottimo è un lavoro molto unito e con Gerolamo ci sono unità di intenti perché abbiamo una visione del calcio molto simile dal punto di vista proprio di aggregazione di gruppo, di volontà e di spirito di sacrificio e di amore per la maglia quando si fanno le cose e quindi sicuramente sì, l'idea è quella di crescere, noi abbiamo, e questa è una cosa che mi pregio un convocato nella rappresentativa regionale che è Emanuele Gagliano che è un 99 che da due anni gioca titolare sempre in prima squadra credo che sia l'unico della promozione convocato nella rappresentativa regionale siciliana quindi questo per noi deve essere un orgoglio ma è un punto di partenza non un punto di arrivo dobbiamo portarne altri e dobbiamo lavorare con i giovani, il futuro per una società che vuole crescere è quello di lavorare appunto con i giovani lavorare con i giovani e giovani anche bagheresi, giovani nostrani come anche i tecnici, questo mi pare che sia anche un punto di forza sì sì, Bagheria offre tanto, noi abbiamo la necessità e abbiamo per fortuna una società che ci crede tanto di lavorare con il prodotto bagherese ci sono tre scuole calcio compresa quella del Bagheria più i settori giovanili della Fortitudo, della Virtus, del Bagheria stesso quindi secondo me il Bagheria deve diventare un punto di riferimento per tutti quei giovani che fanno calcio a Bagheria e non deve essere un declassamento, anzi giocare nel Bagheria deve essere un onore per un bagherese io quando quelle poche volte ho vestito quei due anni o tre anni ho vestito la maglia del Bagheria ero orgoglioso di vestire quella maglia e credo che anche oggi deve essere così conto pari insomma i lavori dovrebbero terminare però mi pare difficile che quest'anno giocherete nuovamente sull'impianto di Bagheria ma se aveste giocato tutto l'anno in casa ci sarebbe restato qualche punto in più? io non ti posso rispondere a questa domanda ti dico soltanto che un metro da una parte e un metro dall'altra permettevano sicuramente di allargare le difese avversarie in maniera molto più facile e questa è una considerazione che faccio spesso con gli altri tecnici soprattutto con il mio amico Girono Sparacino però devo essere sincero credo che il campionato che noi abbiamo fatto quest'anno è un campionato di alto livello è che se avessimo giocato qui probabilmente avremmo avuto qualche risultato positivo in casa maggiore però stiamo parlando di pochi punti io sono convinto che abbiamo fatto il massimo quest'anno e che stiamo gettando le basi per il prossimo anno che sarà sicuramente una squadra dobbiamo fare sicuramente una squadra di vertice almeno se sono confermato io Geraci e Ganci sono veramente le squadre più forti del campionato? sono due squadre, il Geraci secondo me è di categoria superiore il Ganci è proprio una squadra di categoria fatta bene con degli elementi di esperienza che sicuramente hanno un budget diverso dal nostro sono secondo me di categoria superiore, non c'entrano niente in promozione e lo stanno dimostrando è nel cazzo 5 battuta d'arresto per il bagheria sconfitto a Leonforte per 8 a 3 in classifica comunque i bagheresi restano secondi dietro la Mabonator già promossa in Serie B e inseguiti a 7 punti dall'Akragas Futsal nel prossimo turno sabato 7 aprile alle 17 i ragazzi di Mister Tripoli affronteranno proprio qui al pala dalla chiesa la compagine agrigentina è nella pala canestro vittoria in gara 3 per la Eagles Basket che ha giocato e vinto qui al pala dalla chiesa domenica scorsa contro il Cocuzza San Filippo del Mela in quella che era la gara decisiva per i playoff di Serie C la serie di quarti di finale, una vittoria alle cardiopalma 75 a 73 per i biancorossi di coach Flavio Priulla noi adesso vi facciamo vedere gli ultimi possessi che hanno deciso la partita in un ultimo minuto infuocato guardate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti passiamo però adesso alle volley con il Villabate che chiude in bellezza il suo campionato domenica ad Altavilla sconfitto per 3 a 2 la Virtus Pedara con questo risultato la giovane formazione di Mister Sciortino consolida il sesto posto nella classifica finale in settimana abbiamo intervistato il palleggiatore del Villabate Paolo Castronovo e l'allenatore Pippo Gennaro nel club Leoni Palermo squadra affrontata in amichevole abbiamo cominciato questo campionato un pochettino a rilento il gruppo era nuovo ci siamo conosciuti tutti insieme a settembre dopo la preparazione atletica abbiamo avuto leggermente poco tempo per amalgamarci tutti quanti dopo le prime sconfitte iniziali abbiamo comunque preso un pochettino la mano ci siamo conosciuti tutti quanti e ora la squadra va molto molto meglio abbiamo ottenuto dei risultati importanti in trasferta ora cerchiamo di concludere il campionato nel migliore dei modi personalmente sono arrivato in questo gruppo a settembre mi sono tutto sempre abbastanza bene grazie comunque ai miei compagni al mister che ci hanno fatto sentire come a casa dal punto di vista tattico abbiamo avuto dei miglioramenti sia dal punto di vista della difesa che è un fondamentale che è dell'attacco il nostro campionato è un campionato di serie D praticamente siamo nel girone A dove teoricamente doveva starci pure questa squadra con cui stasera stiamo vedendo la micchievole però per motivi di numeri per non rendere il girone B con un numero di squadre minore per cui hanno optato per questa situazione noi per adesso stiamo lottando per il terzo posto perché purtroppo abbiamo dal girone di ritorno praticamente abbiamo perso uno o due partite che non dovevamo perdere però purtroppo è andata così per cui mentre nel girone di andata siamo stati quasi sempre tra primo e secondo posto adesso lottiamo con l'isola delle femmine un'altra squadra di serie D lottiamo per il terzo posto insomma quantomeno per salvare una stagione anche se la stagione tutto sommato è andata positivamente perché abbiamo lanciato tanti ragazzi che si affacciano quasi adesso alla pallavolo tra virgolette che conta e quindi siamo contenti da questo punto di vista come potete vedere insomma il numero di ragazzini in campo è abbastanza numeroso abbiamo qualche vecchietto che ci serve per fare da chiocce e poi per il resto il nostro club è un club appunto che punta molto sull'attività giovanile per poi dare un seguito magari a qualche altra squadra che ci chiede qualche ragazzo che ha le potenzialità per giocare qualche campionato di livello superiore per cui noi siamo una scuola di pallavolo e li seguiamo fino a un certo punto poi se hanno la fortuna di andare in qualche altro posto siamo contentissimi da questo punto di vista e anche per questo appuntamento con Futura Sport è tutto noi naturalmente vi rimandiamo a futurachannel.it non solo per tutte le news a carattere sportivo ma anche di cronaca e attualità Futura Sport torna come sempre venerdì prossimo a tutti voi da parte nostra l'augurio di una buona Pasqua, arrivederci Grazie a tutti